Un saluto dal Tg della mobilità. Oggi e domani la linea C della metropolitana sarà chiusa per l'intera giornata. Lo stop è necessario per fare posto ai lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni e del nodo di scambio con la metro B al Colosseo. Oggi e domani saranno in strada bus sostitutivi sull'intero percorso. Limite di velocità 30 km orari sulla via Laurentina dal chilometro 9539 all'incrocio con il Gra sino al chilometro 13 e 750 alla rotatoria del cimitero Laurentino. In entrambi i sensi di marcia sino al ripristino delle condizioni di sicurezza al transito il limite si è reso necessario per garantire la sicurezza dei mezzi in transito a seguito dei numerosi dissesti e avvallamenti costituitesi negli strati del manto stradale. E' tutto appuntamento alla prossima edizione.